Allora portierone, due portieri insomma uno meglio dell'altro, è stato bravo, è stato veramente bravo, Pietro durissima, dura questa partita, ho facciato il portiere parte, il portiere ha levate tante veramente, uno solo fare, complimenti anche a loro veramente, vi hanno messo un tanto in difficoltà comunque, Luca? Ma la partita è la partita, è la partita, è la partita, è la partita, comunque questa è una squadra che è un po' via, Said è un po' infortunato però insomma, è divertito comunque, ci siamo divertiti, poi allora, poteva andare meglio, era meglio se andava meglio, ma anche meglio, Bene, allora, è dura, è dura, bella squadra comunque l'avversaria, sì sì, belle squadre, giocano bene, bel calcio quindi, è stata bella, ci vediamo per il terzo quarto posto a questo punto, bene grazie Ciao